L'Istituto Liside è stato protagonista della giornata mondiale della vista con l'iniziativa progetto benessere della persona organizzata con l'Unione Italiana Cecchi con il sostegno del Dipartimento di Prevenzione dell'Asla Taranto. I docenti e gli studenti dell'indirizzo servizi sociosanitari articolazione arti ausiliarie delle professioni sanitarie ottico sono stati a disposizione della cittadinanza per un controllo degli occhiali e uno screening visivo gratuito per sensibilizzare le persone sull'importanza dei controlli periodici indispensabili per individuare precocemente eventuali problemi della salute dell'occhio. La presenza del Dipartimento di Prevenzione ha evidenziato la continua collaborazione con le scuole. Questa iniziativa si inquadra in un percorso più ampio che è stato approvato nell'ultimo collegio denominato benessere della persona che ci consentirà anche in altre giornate seguendo questo tema di poterci aprire al territorio sempre fruendo delle specificità della scuola liside che sono l'indirizzo dotto tecnico, l'indirizzo sociosanitario e l'indirizzo grafico. Questa scuola ha dato il suo contributo proprio per effettuare degli esami gratuiti nei confronti della popolazione quindi questo tema è fondamentale per la promozione del benessere e della salute a scuola. La scuola è il nostro setting privilegiato per tutte le azioni di promozione della salute quindi integrare una realtà così importante sul territorio che vedrà i futuri ottici e addetti anche alla poltrona.